Ciao a tutti, noi siamo in Juno dalla Val Sugana e noi portiamo qui il nostro indie rock fresco e estivo. È un piacere essere nuovamente ad Upload, anche perché stiamo presentando il nostro primo disco. È un disco che non ha ancora un titolo, ma ha un sacco di brio. Grazie a tutti e grazie ancora ad Upload per averci ospitato qui a Bressanone. È un'occasione unica per creare un interscambio tra le band del Sud Tirolo, del Alto Adige e Trentino. Grazie a tutti. 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 per fare un'eintritto. Ciao, siamo la Lyrica e abbiamo già già due anni quindi siamo già in Lola e qui siamo in Puglia e qui siamo in Puglia e qui spiego Alternative Crush e ci sono in un'upload perché ci sono molto divertente e ci sono un'azionamento e ci sono un'azionamento in un'albi, in un'upload e ci essere un'azionamento poi passeremo per questo ciò per la visione per il l'upload e ciò